Dopo vari rinvii per motivi istituzionali arriva finalmente a Teramo il sottosegretario Paola De Micheli, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione. Ad attenderla nella sede dell'ufficio speciale per la ricostruzione in via Cerullirelli, i sindaci del cratere ai quali la De Micheli ha spiegato le novità sui finanziamenti e agevolazioni post terremoto. In sintesi il commissario ha annunciato l'accorpamento delle pratiche del Sisma 2009 non ancora concluse con quelle attuali, il finanziamento per 800 opere pubbliche nel perimetro del cratere e appalti celeri utilizzando la procedura dell'invito e non del bando. Credo che sarà una novità per il cratere del 2009, proveremo soprattutto su alcune parti delle opere pubbliche ad accelerare esattamente quella stessa procedura che introdurremo per il 2016. La procedura pubblica che oggi vorrei illustrare con un po' più dettaglio ai sindaci nuova prevede un aumento dei soggetti attuatori e quindi non più solo un soggetto attuatore unico nazionale. Questo per consentire di avvicinare il punto di organizzazione della gara al punto di realizzazione della gara stessa, non solo in termini geografici ma proprio in termini istituzionali. E poi l'introduzione per tutte le opere pubbliche che riterremo strategiche, quindi le 400 già previste dall'ordinanza di Errani, più quelle che negozieremo insieme ai territori con i subcommissari, altre opere pubbliche di una prossima ordinanza da qui ai primi giorni dell'anno. Ecco, su queste 800 e 900 opere pubbliche potremo applicare la procedura negoziata. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico delle scuole, tema assai caro a cittadini e istituzioni, Paola De Micheli ha spiegato che sono a disposizione ingenti somme da parte del MIUR, ma che i sindaci devono attivarsi per la progettazione e per poi partecipare ai bandi. Abbiamo già stanziato le risorse sia per gli studi di vulnerabilità ma anche per dei progetti diciamo così specifici. Sapete che c'è un bando aperto del MIUR sul quale ci sono tanti soldini e perché devo dire una cosa, se c'è una grande novità rispetto al passato è che oggi su questi temi soldi non mancano. Quindi bisogna riuscire a fare velocemente le progettazioni, ripeto questa è una parte che non riguarda direttamente il commissario, ma i sindaci sanno e il sindaco di Teramo in particolare sa che su questa partita tutta l'assistenza considerato il mio ruolo anche di governo ci sarà e verrà anche esplicitata in atti formali. E' aperto il bando e quindi i sindaci devono partecipare. Ma intanto come procede la lavorazione delle pratiche da parte dell'Ufficio regionale per la ricostruzione dopo gli oltre 5.000 sopralluoghi effettuati solo nel comune di Teramo e che conta oltre 5.000 sfollati piuttosto a rilento?